Pensiero del giorno. Presto attenzione ai sentimenti d'amore dentro di me. Ispiro profondamente e percepisco la presenza amorevole dei miei angeli. Penso spesso a loro e permetto a me stesso di essere felice e pieno di gioia. Senti l'amore degli angeli. Ti stiamo mandando amore mentre leggi queste parole. Sintonizzati sul tuo respiro e sul tuo corpo e presta attenzione alle tenere emozioni che ricevi con ogni ispirazione. Stai attirando il nostro amore. Esso arriva nel tuo corpo per riscaldarti, equilibrarti e guarirti. Oggi ti invieremo questo sentimento durante tutta la giornata. Se perdi consapevolezza della nostra presenza non c'è problema. Ricorda solo che noi siamo qui quando hai bisogno di una spinta o di qualche rassicurazione. Ogni respiro che fai è del nostro amore. Sentilo. Pensiero del giorno. Presto attenzione ai sentimenti d'amore dentro di me.